Io ringrazio, sarò brevissimo, ringrazio Mario Minelli per lo sforzo enorme che ha fatto il Rettore Bianchi e io sono un medico biochimico e sono stato molto fortunato perché nella mia vita ho avuto l'opportunità di cooperare con tanti clinici che mi hanno permesso di sfruttare le mie competenze. Però non voglio parlare delle ragioni scientifiche che ci sono, avete sentito benissimo da chi mi ha preceduto, dietro c'è un mondo scientifico, c'è tanta conoscenza attuale che permette di dare un ulteriore strumento a chi ha fiatto una diagnosi accurata per ottenere delle soluzioni. Però io mi rivolgo al senatore perché la scelta adesso è tutta della politica. Noi siamo un paese fortunato perché nel nostro sistema sanitario nazionale, nei livelli essenziali di assistenza, chi l'ha scritto, questa mano che ha scritto questa cosa, è stata lungimirante. Cioè tanti anni fa ha scritto che si poteva indagare una variazione nel DNA. Ancora prima che si sapesse effettivamente quanto questo peso poteva avere, tanti anni fa è stato scritto che si poteva indagare l'efficienza della barriera intestinale. Perfetto. Adesso noi ci troviamo però in una situazione in cui tutto l'utilizzo di questa potenzialità che c'è, diciamo per offrire una migliore definizione della gestione della salute, è tutta su base, completamente volontaria. E questa cosa crea una simmetria tremenda. C'è il paziente fortunato che incontra l'oncologo Paolo Marchetti o l'immunologo che ha determinate competenze e decide di ottimizzare la strategia delle scelte terapeutiche in un certo modo, proteggendo le reazioni avverse, sistematizzando i farmaci, seguendoli in un certo modo. E c'è chi può non farlo o comunque non ha nessun motivo di farlo. E perché? Perché non ci sono sistemi per quantizzare quanto si risparmia ad avere una reazione avversa, una morragia, un ricovero inaspettato, un fallimento terapeutico. In psichiatria lo sanno benissimo quanto costa un fallimento terapeutico, quante volte quel paziente deve tornare, magari cambiare terapia, evitare un suicidio. In oncologia si sa pure, però nessuno lo quantizza, perché quella sofferenza non è quantizzabile. Il risparmio di quella sofferenza, oltre a essere una cosa estremamente etica, per tutti noi diventa anche un risparmio di quelle che sono le sistorse investite in quel sistema. Allora, quello che io credo sia opportuno, diciamo, da persona che si occupa di metodo e metodologia, noi dobbiamo introdurre un nuovo concetto, quanto salvo le risorse utilizzando un certo tipo di innovazione e dando all'innovazione un giusto compenso, cioè come diceva il professor Marchetti, quello che una volta era impossibile, ingestibile per via dei costi, oggi ha dei costi assolutamente abbordabili. E quindi anche in quell'ottica lì, noi dobbiamo andare a vedere che quanto effettivamente costa poter offrire quel tipo di servizio, perché forse non costa così tanto, mi fa risparmiare moltissimo, o comunque mi mette in condizione di avere uno strumento in più, che mi permette di gestire meglio quello che è il mio rapporto con chi è fragile, con chi è malato. Quindi io credo che dal nostro punto di vista, diciamo, i tecnici di tutto questo devono offrire le vie per utilizzare l'innovazione in maniera fruibile da tutti, un po' come il telefonino, no? Ora faccio dei super computer, quelli che abbiamo in mano, sono fruibili a tutti. E la stessa cosa vale per un certo tipo di valutazione del soggetto. È la soluzione di tutti i problemi di medicina? Certamente no. Però aggiungi uno strato di precisione. E quando sei un pochino più preciso, magari eviti l'ostacolo, magari dai un pochino più di fiducia a chi sta dall'altra parte. Ecco, questo era, penso che sia la componente, la politica in questo momento ha un enorme strumento. D'altra parte non è che l'aveva inteso subito, no, il Presidente, il Presidente americano, il Presidente Obama. Cioè, è uno strumento gigante. Può diventare una cosa esclusivamente commerciale, può diventare uno strumento per rendere più semplice la vita di chi è malato. Quindi io spero, confido moltissimo, che ci sia questa sinergia tra scienza e legislatore o decisore. Grazie.